Lei viaggia molto signor Eden? Ho cominciato da bambino. Quanti anni hai cominciato a viaggiare? Unis anni. E quella cicatrice come se l'è fatta? Questa? Sono un disgraziato. Promo che si cammina su. Ma sapeste come ha battuto a pugni quel guardiano? Uno grosso con una faccia cattiva. Il governo dovrebbe spendere di più per l'istruzione, non trova signor Eden? Io penso che se questa è l'istruzione, è il sugo alla povertà. Se uno usa l'istruzione la povertà sparisce. Scusa, ora potremmo fare i scarpetti. Il sugo è buono. Lei è molto simpatico, signor Eden. Grazie. Provo. Grazie. 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 Grazie.